Allora, stiamo parlando di gamma, gamma è uno strumento che permette praticamente la creazione automatica di presentazioni. Una volta che siamo dentro nell'interfaccia scegliamo tra le tre possibilità, presentazione, documento, addirittura web page e gli diciamo appunto qual è l'oggetto. Abbiamo solo 300 caratteri per descrivere il tema della presentazione. Io ho detto l'intelligenza artificiale al servizio del reparto marketing dell'azienda. Che cosa fa gamma a questo punto? Lui dice prima di cominciare a creare la mia opera, la mia magia, ti faccio vedere quali sono i punti fondamentali che io tratterò. Cos'è l'intelligenza artificiale, come aiutare il reparto marketing, alcuni esempi e via dicendo. A quel punto lui ti dice bene, devi scegliere lo stile, devi scegliere un tema e una volta che hai scelto il tema a quel punto non devi fare più assolutamente niente. Penserà tu, lui, a fare intelligenza artificiale al servizio del reparto marketing e col titolo, ecco benvenuti nella presentazione, sceglie delle immagini che tra l'altro sono immagini generate se stesse dall'intelligenza artificiale e come vedete poi comincia a creare le slide successive, impaginandole, scegliendo con cura gli argomenti che appunto noi avevamo già preapprovato ed è l'unico intervento, a parte il tema che avevamo fatto, sceglie anche di variare un po' le slide per non farle tutte con lo stesso layout e quindi alcune saranno per esempio impaginate a colonne, alcune a bullet point, alcune con immagini, alcune senza immagini, alcune con il titolo più grosso, altre più piccolo, fino a quando appunto lui ha esaurito tutti i contenuti, i contenuti ovviamente sono generati da una LLM chat GPT e quindi sono sostanzialmente di solito ben scritti, nel senso sapete benissimo che una LLM si conosce anche tutte le regole grammaticali e soprattutto studiato talmente tanti testi in italiano, anche quindi nella nostra lingua, che se la cava molto bene, tra l'altro curiosità in GPT 4, quindi il nuovo modello di chat GPT, la lingua italiana è una di quelle maggiormente conosciute dopo l'inglese, vedete che comunque la presentazione prosegue, si va avanti, sfidare lo status quo e sperimentare, si arriva addirittura alle considerazioni finali, quindi c'è una chiusa con appunto poco testo e diciamo più che altro sono slide evocative, quindi secondo me fatte con tutti i crismi. Ma quante presentazioni possiamo fare gratuitamente? Allora noi partiamo con una dote di 320 crediti, ogni presentazione praticamente ne consuma 40 e se dobbiamo fare l'editing altri 10, quindi cominciamo a capire che comunque abbiamo un po' di margine per provare, per sperimentare e poi invece il piano pro è 16 dollari al mese con appunto presentazioni illimitate e tutte le modifiche che vogliamo. A un certo punto poi una volta finita la presentazione possiamo scaricarla sia in pdf che addirittura in formato powerpoint, capite che quindi poi posso modificarla eventualmente con powerpoint. Buon gamma punto app. A tutti.